Siamo a pagina 442, al capitolo dedicato a un altro grandissimo poeta che fu Salvatore Quasimodo, siciliano, quindi diversa geografia rispetto a quella di Montale. Il contesto di nascita dei poeti adesso ci può dire molto anche su il loro uso delle parole, sulla ricercatezza di alcuni vocaboli. Mentre per la poesia antica era un po' differente, il contesto non era tanto geografico quanto magari politico o aveva altre funzioni. Dante ci parla di Firenze non tanto dal punto di vista delle sue colline, anche sicuramente, ma quello che più conta in Dante è la politica, i riferimenti alla storia, a quello che stava succedendo, eccetera. Invece tanta geografia entra nella poesia dei poeti contemporanei, perché hanno vissuto in determinati luoghi. Addirittura c'era una poesia di Ungaretti, che è riportata anche nella vostra antologia, che si intitolava I fiumi, che ci dava proprio una connotazione molto personale della sua geografia. Lui che era vissuto ad Alessandria d'Egitto, ci descrive il Nilo, ci descrive l'Isonzo, il fiume della guerra, nel quale si è bagnato durante la prima guerra mondiale, e via discorrendo. Quindi fa un catalogo di fiumi che sono parte della sua biografia. La stessa cosa sarà la Sicilia proprio di Quasimodo, una Sicilia che ha vissuto e che gli è rimasta cara nel cuore e che ci descriverà anche nelle sue poesie. C'è una comunanza con il percorso di studi di Montale, vi ricordate che era un ragioniere, quindi una scuola tecnica. Se fate caso al percorso di studi di Quasimodo, vi dice che conseguì il diploma di perito tecnico. Poi si iscriverà in ingegneria e non concluderà gli studi. Quindi ha avuto una carriera prettamente scientifica, tecnico-scientifica, che nulla ha a che vedere con la poesia apparentemente o con la letteratura. E invece, nonostante questo, pure lui riuscirà ad accaparrarsi il Nobel, che è il più alto riconoscimento al mondo per un determinato settore del sapere umano, in questo caso per la letteratura. Quindi questo dimostra che si può, nonostante un percorso differente rispetto a quello classico, a quello umanistico, accedere a quel tipo di cultura in una maniera diversa, in una maniera differente. Probabilmente tutto questo sarà anche uno sprone per fargli studiare il latino e il greco in separata sede. Diventerà un importantissimo traduttore dei classici. Ci sono addirittura delle gare di traduzione dal latino e dal greco. Fanno proprio dei concorsi in giro per l'Italia. Ancora oggi, chi frequenterà poi un liceo classico, un liceo scientifico, speriamo che vi partecipi, si vincono anche dei premi in denaro, per le più belle traduzioni. Ecco, le traduzioni di lirici greci di Quasimodo faranno scuola, perché saranno delle traduzioni un po' particolari, molto criticate da alcune parti, per aspetti di pura traduzione, mettiamola così, e molto osannati dall'altra perché ha reso poesia quello che già era poesia, e quindi non è facile. Si trasferirà a Firenze, quindi per motivi di lavoro e di famiglia cambierà la città, e frequenterà proprio a Firenze gli ambienti intellettuali. Era il periodo in cui Montale, ad esempio, era direttore del gabinetto VSE, dal quale poi sarà licenziato nel 1938, perché aveva firmato il manifesto degli antifascisti, cioè era considerato un antifascista e perderà il lavoro, ma conoscerà Montale, frequenterà l'ambiente dell'ermetismo tipico di Firenze di quegli anni, e potrà immergersi in questo tipo di pensiero di cultura che era proprio tipico della città di Firenze, di quello che ruotava attorno anche ad un bar molto famoso, che esiste ancora oggi, che era il bar delle Giubbe Rosse, era il caffè delle Giubbe Rosse. Noi oggi li chiamiamo bar, allora li chiamavano i caffè. Il caffè delle Giubbe Rosse sarà proprio il luogo di incontro di tantissimi intellettuali, di pensatori, di poeti, di artisti in generale, e proprio al caffè si scambiavano idee, opinioni, giudizi su quello che stava capitando e su come si stava evolvendo la letteratura e la poesia. Alla fine otterrà, vi dice il testo, per chiara fama la cattedra di letteratura presso il Conservatorio di Milano. Cioè andrà a insegnare letteratura al Conservatorio senza aver vinto un concorso. Cosa vuol dire per chiara fama? Vuol dire che sei diventato così importante per i tuoi meriti, per quello che hai scritto, per come sei considerato nel tuo settore dal resto del mondo, che non c'è nemmeno il bisogno di farti fare un concorso o di richiederti dei titoli, perché quello che hai dimostrato lo dovevi già dimostrare. E di conseguenza viene assunto direttamente dal Conservatorio di Milano dove lavorerà per il resto della sua vita, come insegnante di letteratura, vincerà il Nobel e poi vi dice morirà improvvisamente a Napoli. Quindi, questo un po', guardatevi la biografia in breve che vi presenta il vostro testo e poi la parte, come sempre, forse più importante dal punto di vista della comprensione del testo è quella relativa al tipo di scrittura e al lessico, alle strutture delle sue poesie e al linguaggio che utilizzano i vari poeti. Tradizione classica e impegno civile. Possiamo praticamente dividere la grande produzione letteraria di Quasimodi in due grandi blocchi, quelli un po' prima della Seconda Guerra Mondiale e quelli dopo la Seconda Guerra Mondiale. La Guerra Mondiale ha segnato proprio uno spartiacque, un confine, un muro tra queste due produzioni. Prima, prima della Seconda Guerra Mondiale era decisamente più vicino all'ermettismo, al movimento del quale parlammo e anche perché era legato ai poeti dell'ermettismo come, ad esempio, Montale e la sua cerchia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale cambierà completamente modo di agire e modo di poetare e andrà tutto in un'altra direzione. Vi dice il testo che all'inizio le sue poesie sono brevi, fatte di brevi frammenti. Ricorda un po' la poesia di Ungaretti, in un certo senso. Dei piccoli lampi disegnati sulla carta attraverso pochi versi, due o tre versi, che racchiudono nelle loro immagini un mondo infinito, come era del resto quello di Ungaretti. La sua isola, la Sicilia, era vista come un luogo mitico, un paradiso perduto dall'uomo contemporaneo, afflitto da un profondo e insanabile dolore esistenziale. ritorna anche per questo poeta il concetto già sviscerato per Montale che è quello del dolore, anche se è una terminologia più montagliana, del male di vivere, del senso precario della nostra esistenza e della mancanza talvolta di risposte chiare, definitive al senso del nostro vivere. Questo era quello che faceva parte un po' del primo periodo e guardate un titolo molto importante di una raccolta poetica di Montale e ricordate quello che abbiamo detto sull'ermetismo, oboe sommerso. Pensate che bella immagine, un oboe è uno strumento musicale un po' particolare, andatevelo a cercare, andatevi a cercare l'immagine su internet così capite che strumento è, come si suona, come è anche il bocchino molto particolare, questo piccolo tubicino che entra nella bocca e ha questo suono nasale, diverso da un clarinetto, anche se può assomigliare, se uno non sa bene di che cosa si tratti, perché sono scuri tutti e due e hanno più o meno, sembra apparentemente, la stessa forma, ecco perché va visto, ma ha un suono molto caratteristico, pungente e nasale. Immaginate di mettere questo suono sott'acqua e avete già un'immagine unica del mondo di Quesimodo, questo oboe con il suo suono che viene sommerso, quindi non può più suonare, ma ci ricorda ancora il suo suono e ci viene proprio in mente questa sensazione di voler dire qualche cosa, ma non poterlo fare perché si è sommersi, perché si è al di sotto delle nostre possibilità. L'altra parte della produzione poetica di Quesimodo è quella dell'impegno civile e sociale, cioè comincerà a dedicarsi anche un po' alla politica, al mondo della politica e a quello che stava succedendo nel dopoguerra, prima con la guerra, con la resistenza e tutto quello che è successo e poi nel dopoguerra ricordando i fatti crudeli, talvolta terribili, dell'esperienza bellica, e descrivendoceli all'interno delle sue poesie. Ecco che diventa una poesia di denuncia sociale tante volte. Cosa vuol dire? Vuol dire che attraverso le parole della sua poesia vuol far capire a chi legge i problemi che ci sono stati e che ci sono nella nostra società. Lo fa attraverso le parole di un poeta. Allora, guardiamo questo flash unico nella letteratura che è Ed è subito sera, titolo di una poesia cortissima, brevissima, guardate quanto è lunga, sono tre versi, irregolari, sembrano quasi a scalare in lunghezza, nei quali ci descrive con delle immagini una cosa. Cerchiamo di capire che cosa dalla lettura del testo. Ognuno sta solo sul cuore della Terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Ripartiamo da capo. Ognuno di noi sta solo perché siamo tutti soli. Il nostro essere è unico e viviamo la nostra esistenza da soli. Abbiamo contatti con il resto del mondo, ma questi contatti svaniscono nel momento in cui, pensate, ci rinchiudiamo in casa nostra. Noi siamo una personalità sola. Si dice che si nasca e si muoia da soli. È vero, perché solo noi arriviamo e solo noi ce ne andiamo. Tutto il resto sono incontri. È l'arte dell'incontro, la vita, in un certo senso. Ma ognuno di noi è solo sul cuore della Terra. Immagine, di nuovo. Sul cuore della Terra. La Terra ha un cuore pulsante, è viva. E noi viviamo su questo cuore pulsante della Terra. Perché la nostra vita si sviluppa qua, su questo piano di esistenza. Trafitto da un raggio di sole. Un raggio di sole arriva. Un raggio di sole è una cosa positiva. È la luce, è il calore, è l'energia, è la vita che sta arrivando, ma ci trafigge. Perché ci trafigge? Perché viviamo in questo atomo del male, direbbe qualcun altro. Andatevi a ricercare chi è che aveva detto questa espressione. Noi viviamo su questa Terra con i nostri mali. Il male probabilmente è maggiore del bene in questa concezione. Ed ecco perché il sole arriva e ci trafigge. È il male che dovrebbe trafiggerci. e sa di qualche cosa di negativo. Invece qua è una cosa positiva. Il raggio del sole, la luce, arriva e ci trafigge. Probabilmente per scuoterci dal nostro male di vivere. Ed è subito sera. Nel momento in cui comprendiamo per un attimo il bello e il bene che c'è su questa Terra, siamo vecchi e siamo destinati alla morte. Ed è subito sera, ci stiamo avvicinando lentamente alla fine del nostro percorso. La comprensione probabilmente arriva, ma arriva troppo tardi. Quindi vedete che ci stiamo un po' allontanando dal pensiero di Montale, perché là proprio non c'erano risposte. Forse qua qualche risposta può esserci, ma le risposte arrivano tardi. Arrivano in un momento in cui non possiamo più modificare quello che è stato. Perché? Perché è subito sera. Questo fa parte di quello che vi dicevo, il primo periodo della poesia e dell'esistenza di Quasimodo. Se girate pagina, avete l'altro ago della bilancia, quindi il retro della moneta di Quasimodo, quella poesia di denuncia non dell'esistenza umana, ma degli orrori della guerra, quella poesia civile impegnata che vuol farci capire le cose dal punto di vista viste con gli occhi di un poeta. Ed è una poesia terribile quella che vi presenta la vostra antologia. Si intitola Alle fronde dei salici. Già quando si pensa al salice, viene in mente il salice piangente, spesso, che è già una pianta che ci porta un po' verso la tristezza e la malinconia, perché sembra proprio piangere con queste sue fronde che cascano verso terra e cercano, quasi vogliono toccare il terreno circostante. A volte sono sulle rive dei laghi e sono ancora più triste, sembrano voler entrare direttamente all'interno delle acque del lago. Qui abbiamo uno spaccato di quella che era la situazione tra il 1943 e il 1945. Proprio qua in Italia e proprio nel nord Italia probabilmente si rifà a queste scene strazianti della ritirata dei tedeschi e delle grandi stragi effettuate dall'esercito nazista in ritirata. Sul libro di storia avevamo affrontato le stragi di Marzabotto, anche delle fosse ardiatine, ma lì eravamo ancora a Roma, stava partendo da Roma l'esercito nazista, Marzabotto. Pensate a quello che succede nei nostri territori, con gli eccidi di Boves con l'incendio del paese, l'incendio di Venasca, le rappresaglie nei nostri piccoli paesi, è successo di tutto, gli orrori più brutti durante la seconda guerra mondiale e vengono tutti racchiusi in questi dieci versi che costituiscono una poesia di nuovo molto breve, ma estremamente incisiva. Alle fronde dei Salici, cosa ci sarà alle fronde dei Salici? Cerchiamo di scoprirlo nella lettura. E la poesia inizia con una congiunzione, quasi volesse continuare qualche cosa che c'è già stato, un discorso che non si è ancora chiuso, lo chiude ora. E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore? Ma noi chi? Qui il noi sono i poeti, naturalmente, noi, lui, Salvatore Quasimodo, ma anche gli altri poeti. Come potevamo fare poesia? Noi, poeti, in quel periodo di orrore che è stato quello della guerra, con il piede straniero, naturalmente i tedeschi, i nazisti, sopra il cuore che ci schiacciava il cuore, che ci schiacciava il sentimento, immagine, metaforica, ma molto forte, con l'oppressore che ci stava sterminando lentamente, fra i morti abbandonati nelle piazze. L'immagine alla quale purtroppo tanti nostri nonni o bisnonni si sono abituati in fretta, quello dei cadaveri lasciati a decomporsi nelle piazze o impiccati ai pali delle luci, per monito, per far sì che tutti sapessero quale sarebbe stato il loro futuro se non avessero magari denunciato i partigiani o se fossero stati antifascisti. con i morti fra i morti abbandonati nelle piazze sull'erba dura di ghiaccio l'erba è un qualche cosa di vivo verde accogliente che rappresenta la primavera spesso e qua è un'erba ghiacciata di nuovo un'immagine molto forte che rappresenta il freddo la morte al lamento enjambement d'agnello dei fanciulli i fanciulli sono degli agnelli destinati al macello ad essere sgozzati si lamentano come si lamentano gli agnelli immaginate il periodo che è quello pasquale rientra già da subito un'immagine cara all'ebraismo che poi ritroveremo al fondo l'agnello pasquale viene sacrificato in quanto simbolo dell'innocenza e sacrificato agli dèi e al dio in particolare in questo caso e gli fanciulli diventano degli agnelli non ne possono nulla ma sono morti anche loro durante la guerra guardate questa immagine da manuale proprio su tutti i manuali di figure retoriche c'è questa immagine all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul pale del telegrafo l'urlo nero diventa un'immagine da manuale perché una sinestesia incredibile come fa un urlo a essere nero però solo in questo modo Quasimodo riesce ad accostare il suono l'urlo che esce al colore di quel suono che è il nero è una pittura scura quell'urlo ed è l'urlo della madre l'urlo strozzato che non esce della madre che vede suo figlio crocifisso esattamente come Maria vedrà crocifisso il suo figlio Cristo alla croce qui lo vede crocifisso al pallo del telegrafo un pallo del telegrafo perché siamo in un periodo in cui il telegrafo è essenziale per le comunicazioni di guerra e per spregio nei confronti di qualunque umanità i nazisti spesso e volentieri facevano anche di queste cose come potevamo noi cantare avendo visto tutte queste cose la poesia ha dovuto fermarsi in quel periodo non c'erano parole per descrivere quegli orrori ecco le fronde dei salici alle fronde dei salici per voto anche le nostre cetre erano appese oscillavano gli evi al triste vento esattamente come gli ebrei schiavi in Babilonia deportati in Babilonia hanno appeso le loro cetre simbolicamente ma anche realmente cioè hanno smesso di cantare le lodi i salmi del Signore allo stesso modo noi poeti abbiamo abbandonato le cetre le cetre sono degli strumenti a corda che funzionano un po' come la chitarra si riconoscono perché hanno questa forma un po' particolare la si rappresenta spesso anche nei cartoni animati quando si rappresentano i personaggi antichi li si vede con le cetre in mano e rappresentano proprio la poesia il poeta antico pensate ad Omero agli aedia erpsodi cantavano accompagnandosi dalla lira e dalla cetra che a volte vengono identificate con lo stesso strumento anche se forse ci sono delle piccole differenze le nostre cetre sono state appese e oscillavano lievi al triste vento cosa ci ricorda questa immagine? beh ricorda naturalmente l'immagine di un impiccato ad un albero in questo caso alle fronde dei salici che viene a muoversi oscillando mosso dal vento esattamente come mosse dal vento sono queste cetre dei poeti inutili perché sono rese mute dagli orrori della guerra della guerra grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti